bravo, a te l'ho messo i cortelli, stai fai niente, taglio io, fatta allora volevo fare io non lo serve, sei pronto? si vai, al mio via, al mio via, al mio via, uno, due, via ma era meglio di spaghetti ma che ti fai fatto tu io? la carbonara la faccio io, i pancheri vanno benissimi, ma che si asce? non si ha dato la carbonara tu, che capisci? sbatta l'uovo, forza, dammi qua, dammi qua, devi essere, qua il movimento deve essere fluido, si deve amalgamare tutto l'uovo, col pecolino, il parmigiano, guarda, una crema, lo capisci? io ci metto neanche il bianco e sbagli, in Italia si mette solo il rosso e anche un po' di panna no no, ha detto pane no no, panna oh, che lo ripeto pure vabbè, ma stava scherzando ma tu vedi che io mi blocco, mi sono fatta bianca bianca la parola panna, ma fa venire un fritto un po', hai capito? tu mi metti la panna in te la carbonara tu sei una delinquente tu e tutti i francesi che hanno mandato la panna basta, perché sei la nuvelle cuisine ma cos'è la nuvelle cuisine? cos'è? è un'invenzione noa è solo una copia della cucina italiana noi inventiamo e voi copiate noi inventiamo il Giro d'Italia e poi faccio il tour de France noi inventammo il festival in Venezia e poi faccio il festival de Cannes a Corsica, guarda, a Corsica è la nostra ve la siete comprata per due lire i francesi a Gioconda guarda ma, a Gioconda e chi è? è l'Italia, non si chiama Gioconda si chiama Gioconda ma la devo rubare prima di morire ma la ha già rubare poi ho tinto lo cesso perché è schifo a Gioconda mi piace con la faccia appesa mi parla a Monica la butto ma me la ruba